E beh domenica allora questo bel derby tra la Gelbisola e la Salernitanda per quanto riguarda naturalmente la formazione femminile guidata da mister Emiliano Tarabosi. Supersport 7 vi aspetta in replica al termine di questa edizione del nostro telegiornale che intanto vi propone un approfondimento sulla splendida edizione 2024 della Fiera della Frecagnola. La nostra Fiera della Frecagnola perché abbiamo il piacere di avere ospite nel nostro telegiornale il presidente dell'ente fiera il dottore Mimmo Pizzolante. Buongiorno dottore grazie di essere qui con noi ben ritrovata si è ripreso intanto abbiamo aspettato qualche giorno perché è stata un'intensa settimana. Sì intanto buonasera a tutti buonasera a te Carmela grazie per l'invito. Sì siamo riposati ma soprattutto mentalmente che poi fisicamente alla fine una serata che tu la passi tranquilla ti riposi però mentalmente insomma è stato un po' tanto lavoro. Allora lei mi ha riferito qualche giorno prima dell'inizio della Frecagnola rispondendo anche a qualche polemica i conti si fanno quando si torna dalla fiera giusto più o meno era questo il termine come si dice? Sì diciamo che l'abbiamo detto in dialetto no? I conti facciamo quando tornavamo alla fiera no? Se vogliamo stare proprio nel tema della Frecagnola. I conti facciamo li possiamo fare questi conti no? Beh penso sì che a distanza possiamo tirare le somme. Che edizione è stata dottore? Senti Tanto un'esplosione tutte le sere poi analizzeremo insomma dalla cerimonia di inaugurazione che ci ha regalato tante emozioni. Ecco volevo partire da lì da quel giorno lì dalla serata dell'inaugurazione che è stata anche toccante e ci è piaciuta perché chi ha partecipato è veramente era in prima persona no? Nella Frecagnola mi si sentiva proprio parte integrante di questo bellissimo evento e quindi mi è piaciuto tantissimo perché è stato veramente toccante. Poi ovviamente non poteva essere diversa la cosa visto che l'ente fiera è dedicata al caro amico Nello che purtroppo ci ha lasciato prima di quello che doveva essere no? E quindi mi è piaciuto molto molto questo l'apertura. Tra le altre cose la presenza di tanti sindaci, tanti onorevoli. Sì dalla regia ecco tra poco ci ripropongono anche le immagini della cerimonia di inaugurazione. Ecco vuol dire vuol dire tanto no? Vuol dire che anche queste persone non vengono giusto perché sono invitate vogliono fare il piacere al sindaco che l'ha invitato e a noi altri ma perché ci tengono no? Che poi a tavola vengono fuori le vere cose le vere emozioni le vere sensazioni di quello che poi si dice si partecipa durante questo nostro evento. Ed è stato molto per noi è stato molto molto bello perché poi sacrifici quando si fanno e poi vengono soddisfatti è una cosa molto bella. Complimenti a lei, complimenti al sindaco Carmine Aurito che abbiamo rivisto anche in queste immagini. Tanti tanti amministratori al di là del colore politico davvero però c'è questo piacere di rispondere al vostro invito, di partecipare, di condividere con Canalonga la tradizionale fiera della Frecagnola, questo evento secolare. Qui il sindaco Carmine Aurito vediamo insomma al suo fianco anche l'onorevole Attilio Piero era presente anche il vice segretario nazionale della Lega che è il vice di Salvini in poche parole, ha fatto un intervento, ha detto la sua, ha stuzzicato un po' anche le altre autorevoli presenze. Però un sano confronto, la Frecagnola è anche questo no? Sì, quello che mi è piaciuto è che è venuto fuori come le persone del sud che vanno al nord e danno quel quid in più e questo è bello, abbiamo avuto anche, voglio dire, una, come dice, siamo stati premiati da questo punto di vista da chi sta al nord e ha visto effettivamente persone che vengono al sud, vanno al nord e danno, come dice, conforto, danno quell'azione grossa, quel modo di fare che noi lo teniamo ma che purtroppo forse probabilmente non lo possiamo così esprimere nel nostro territorio e abbiamo bisogno di andare da qualche altra parte. Mi emoziona ancora di vedere questa immagine, tutto per quello che è accaduto dopo, questo taglio del nastro a più mani, l'onorevole Franco Piccarone, consigliere regionale, il presidente del parco, tanti sindaci, però mi consenta di soffermarmi anche su quel bel momento che ha visto sul palco. Ricordare nell'onorati, grazie all'emozione del dottore Luigi Cobellis che avete insegnato, insomma, del ruolo di masso di festa, gli avete consegnato le chiavi e poi il ringraziamento, perché quello è stata una sorta di ringraziamento, no? Al dottore Antonio Aloia, qui avete consegnato il premio Carbone. Due momenti che resteranno per sempre nella storia dell'Africa Agnola. Sì, come dicevo prima è stato veramente toccante ed è bello rivedere ora queste immagini a freddo, no? Dopo che tu sei riposato, perché in quel momento eri anche teso, eri anche stressato, si pensa sempre che le cose non vanno come tu pensavi potessero andare e quindi poi a distanza di tempo siamo veramente soddisfatti. Abbiamo parlato proprio ieri con il sindaco a cui faccio i miei complimenti perché ha dovuto anche in queste sere della fiera soddisfare delle esigenze immediate che sono venute fuori al momento, quindi la capacità anche di Carmine è stata veramente all'altezza. Ecco, non ha esitato ad intervenire in prima persona, nei momenti in cui c'è stato bisogno anche di un'assistenza sanitaria, l'abbiamo fatto vedere anche all'interno del nostro telegiornale. Tanti ringraziamenti e li faremo. Prima però di arrivare ai ringraziamenti, e beh, dopo la cerimonia di inaugurazione, spazio poi agli appuntamenti musicali. Tanti, avete fatto ballare davvero tutti in quella spalli da piazza del popolo, poi gli stand gastronomici, il piattoforte e la capra bollita, ma non solo, tanti gli stand per le stradine di Canalonga, per le principali strade, il mercato del sabato mattina, il foro Boario, davvero tanti tanti momenti. Rispettata la tradizione ma anche con un po' di innovazione. Sì, diciamo che veramente quest'anno poi con gli spettacoli abbiamo alzato anche un po' la qualità, no? Abbiamo avuto ospiti due gruppi meravigliosi del Salento, che hanno dato veramente il massimo su quel palco, forse li vediamo. Questa è la prima, proprio la primissima esibizione se non sbaglio, no? Primo gruppo, la prima sera? Non vorrei sbagliare, no? Questo mi pare sia il giovedì, il giorno dopo. Il giovedì, il giorno dopo, sì. Stavo dicendo, questi gruppi che sono venuti al Salento, parlando poi alla fine dello spettacolo, ci hanno detto che non avevano mai suonato una piazza così partecipata, no? Si sono sentiti, parte pure loro, e questo è il bello del nostro evento, perché poi mi si domandano, mi fanno sempre le domande, ma come mai c'è tanta gente, no? Che viene là? Eh, sarà questo il segreto? Non lo so, c'è aria diversa, si sentono proprio partecipi, c'è aria di fera. A partire, io, non so, ho usato dire durante la cerimonia di presentazione, è nel DNA di tutti noi cilentani, io almeno ricordo… Bene, mi piace questa cosa, di tutti noi cilentani, del territorio. Sì, di noi cilentani, perché, insomma, sfido almeno la mia generazione, se non da bambini, ecco, abbiamo mostro i primi passi anche all'interno della fiera della Fregagnola, un appuntamento fisso. Era un altro evento, però tutti noi cilentani, l'appuntamento fisso, fine estate, era quello di far visita alla fiera della Fregagnola. Sì, poi Fregagnola vorrebbe dire anche ultimo scambolo, no? La chiusura delle fiere, all'epoca era così, no? C'erano i mercanti che andavano per le varie fiere del Cilento e poi concludevano tutti gli affari a Canalonga stesso e quindi era l'ultima fiera Fregagnola, se noi cambiamo anche l'accento, vuol dire anche ultimo scambolo, fine, chiusura. Allora, dottore, questa edizione l'abbiamo archiviata, il tempo di riposarci, tanto lavoro, no? Si inizia con tanto, tanto anticipo. Soddisfatto di questa edizione? Si aspettava altro? Siamo andati oltre le aspettative? Senti, io non voglio essere presuntuoso, però effettivamente siamo andati un po' oltre, perché incontrare tanta gente ti dice, ma quest'anno veramente è stata un'esplosione, Fregagnola è stata un'esplosione, è stata veramente un'esplosione. Poi, insomma, un po' le polemiche c'erano state, un po' di ansia si portava, però poi vedevo, alla fine, quando è finita tutta la musica popolare, tu parlavi prima dei vari gruppi, noi si sono anche così rinnovati, e si sono alternati, ma si sono rinnovati anche nella musica, aumentando anche la qualità, scusatemi, la qualità della musica stessa e alla fine vedere i ragazzi che, concluso la musica popolare, stanno in piazza ad aspettare, no, altra musica, beh, ci siamo inventati questa storia del DJ e pare che poi alla fine abbia dato i suoi frutti, no? Io ho registrato, non so se mandate in onda, l'abbiamo assolutamente, abbiamo visto ragazzi che poi dalle tre in poi fino alle quattro hanno ballato con il DJ, che è stato molto bravo a mandare la piazza, e di questo siamo contenti perché vuol dire che quello che avevamo... Non è ruotata la piazza. Assolutamente no, perché noi abbiamo sempre pensato, o quantomeno ci hanno sempre suggerito, ma questi ragazzi, e poi finita la musica popolare alle due. Ecco qua, forse qui non so se stanno ballando, ecco qua. Al ritmo del DJ? No, ancora no. Questo è sempre, mi pare, il ritto antico. Il ritto antico, sì, sì, sono il ritto antico. Ecco, questi poi hanno preso tutta la scena, hanno preso anche quello che non gli aspettava, per cui siamo un po' non ramaricati. Mi dispiace per il DJ che doveva suonare subito dopo, ma aveva solo dieci minuti di tempo, il tempo di mettere le console eccetera, ha deciso di non salire, perché insomma se l'è stendita un po'. Eravamo andati oltre. Però è andata bene uguale, vorrei dire che ci rifaremo l'anno prossimo. Allora, tanti ringraziamenti da fare. Mi consente di ringraziare intanto lei, il sindaco, tutta la comunità di Canalonga che ci ha accolti anche quest'anno. Davvero ha accolto tante tante persone, perché immagino che in quella settimana è una gran festa però per la comunità di Canalonga. Un momento particolare, no? Beh, diciamo che tutta la comunità partecipa, no? Partecipa, perché poi senza di loro la fregagnola non è niente. E quindi bisogna ringraziare soprattutto loro e poi ringraziamo quelli che ci vengono a visitare, no? È un grazie veramente di cuore, perché sono tanti, tanti e tanti. Io le ringrazio oggi pubblicamente anche al nome del sindaco di Carmine Laurito. Poi naturalmente ringraziamo le forze dell'ordine che hanno garantito l'ordine e la sicurezza che hanno dovuto intervenire, inevitabile insomma, con questo fiume di gente, però davvero è stata garantita la sicurezza, l'ordine delle tantissime persone presenti, così come i servizi sanitari, non so, davvero tante tante persone da ringraziare. È una bella macchina organizzativa. È vero, c'è ancora da fare qualche cosa. Ripeto, ne parlavamo col sindaco ieri proprio, perché stiamo dando vita a questa nuova associazione. Anzi, ne approfitto per dire che avremo le caratteristiche per essere inserite nell'inventario dei beni materiali della regione Campania. Lo disse l'onorevole Piccarone sul palco, giusto? Esatto, però ancora non avevamo fatto il passo. Oggi abbiamo il disciplinario, lo abbiamo letto, e ci sono delle caratteristiche veramente importanti. E noi le teniamo, e questo ci fa onore, perché la legge del disciplinario è veramente lungo e rispondere ad ogni domanda diventava un attimino difficile. Poi ci siamo accorti che Frecagnola era tutto questo che chiedeva il disciplinario, per cui saremo pronti per entrare nei beni materiali della regione Campania e questo è un altro fiore lucchiello di Frecagnola. Si cresce ulteriormente. Esatto, e siamo già nel terzo settore, quindi speriamo che l'anno prossimo possiamo accedere anche a nuovi finanziamenti e creare le condizioni che Frecagnola vada anche un po' più avanti e anche più in alto. A piccoli passi e con umiltà, questo vi contraddistingue. Sì, vero. Vi contraddistingue. A piccoli passi, però con una grande grande umiltà. Grazie Carmela. Si lavora in silenzio, si fa quello che si può, però con l'impegno. Sì, perché poi si dice sempre, no, ma che la Fiera va da sola, va da sola. Sì, fino a un certo punto. Passo alla volta, perché è anche difficile poi fare dei cambiamenti grossolani, no? Che la Fiera comunque, voglio dire, è partita in maniera, tra virgolette, dico anarchica e oggi noi stiamo dando delle regole e queste regole ci possono portare molto in alto, speriamo molto in alto e migliorare sempre anno a anno, come dicevo passo passo, la qualità anche dei servizi, no? Soprattutto dei servizi, perché la gente che viene a Carlonga vuole anche trovare dei servizi e quindi noi faremo in modo che quei servizi saranno sempre migliorati. Speriamo bene che Dio ci assista. Astro, beh, un'immagine una più bella dell'altra, anche quelle realizzate col drone. Sì, vedevo, scusami se ti interrompo, vedevo proprio, poc'anzi, vedevo il drone che scendeva nell'atrium europeo e usciva dal portone, è una sensazione vedere tutta quella gente che si diverte e questo è il piacere, no? Di stare lì su parte, guardare queste persone che si divertono. Poi c'è sempre quello che magari alza un po' il gomito, ma viene messo a parte magari con tranquillità e pare che poi alla fine sia andato tutto per il verso giusto. Allora, ringraziamenti doverosi anche da parte nostra con l'editore Giorgio Scelza per questa bella collaborazione che si è rinnovata, tante ore di lavoro in diretta, è stato un piacere condividere con Canalonga ore e ore di lavoro, siamo stati, anzi i colleghi sono stati, quindi ringraziamo anche chi ha lavorato dietro le quinte insieme all'editore Giorgio Scelza, la collaborazione con Alta Prospettiva che ha realizzato le immagini con il drone, un bel momento anche per la nostra emittente televisiva e naturalmente ringraziamento a lei, ringraziamento anche agli sponsor che hanno reso possibile questa lunga lunga diretta da Canalonga per la fiera 2024. Questo lo volevo riservare come la ginegina sulla torta, perché il grazie veramente va a voi che siete stati favolosi, meravigliosi e avete veramente toccato ogni angolo dell'evento, e quindi veramente a nome mio e a nome del popolo di Canalonga vi diamo grazie, grazie di cuore. Davvero abbiamo trovato le porte aperte, una grande disponibilità. Dottore allora come ci salutiamo, come salutare i nostri telespettatori? Sì, naturalmente abbiamo più volte ricordato anche il bel lavoro fatto dal sindaco Carmine Laurito, instancabile, durante quella settimana concentrato, perché c'era una grande responsabilità. Come dicevo prima, era in ogni angolo a soddisfare tutte le esigenze che nascevano al momento, quindi non è semplice. Però sempre, come dire, di una grande generosità e tranquillità, ecco, quello vuole mancare il termine, mai fuori le righe, sempre pronto ad ascoltare, a rispondere, però sempre davvero con una grande tranquillità. E quindi direnda per me è veramente un piacere lavorare con Carmine. Un riferimento importante. Questo l'ho detto sempre, lo voglio dire e lo ripeto. Le posso però chiedere in chiusura, lei l'ha già detto, ma perché piace tanto? Da un canna lunghe, perché piace tanto la frecagnola? Ci sono tanti eventi, nulla da togliere a tutte le altre grandi manifestazioni, però la frecagnola resta lì, la regina, noi la diciamo alla regina. Non la trovo la risposta, davvero Carmela, se non dire che c'è gente che la sente e l'aspetta da anno in anno. È difficile veramente pensare di rispondere a questa domanda che vale tanto, ma credo, come ho detto prima, che ognuno sente questa voglia di divertirsi, perché probabilmente, come dicevi prima tu, l'accoglienza del nostro paese, del nostro popolo, dei nostri cittadini è tale che veramente ognuno che viene a canna lunghe si sente canna lunghese e si sente partecipe dell'evento frecagnola. Ce ne accorgiamo anche dal ritorno che abbiamo avuto, i tanti servizi realizzati anche da Rosa Positano, che insomma non solo di mattina ma anche durante le ore serali vi ha fatto visita, con le intervie, un grande ritorno, cioè piacciono anche i servizi che realizziamo, perché piace la fira della frecagnola. Li aspettiamo, no, li aspettiamo questi servizi. Io volevo ringraziare anche il falconiere che è venuto sabato mattina, che si è dovuto spostare due o tre volte, insomma, non è semplice portare quei rapaci in giro per il paese, però è stata una cosa molto bella perché ho visto tanti bambini divertirsi, ammirare questi rapaci, ma non solo i bambini, anche le persone adulte, e questa è stata una cosa in più lì sul Foro Boario, poi siamo scesi nell'atrio e quindi volevo ringraziare anche il falconiere Gerardo De Marco. Mi trovo impreparata. Si chiama Gerardo sicuramente, quindi lo voglio ringraziare, perché ha dato il massimo che poteva. Con quale impegno ci lasciamo, ci salutiamo per questo nostro speciale dedicato alla Frecagnola? Intanto lei continua a seguire la Gerardo, io l'ho chiesto prima, siamo entrati subito nel vivo della discussione per quanto riguarda la Frecagnola 2024. Ci vediamo allo stadio, dottore? Allo stadio, ieri sono stata da Crovole, ho visto una Gerardo, sono meravigliosa, come piace forse a tutti quanti, quella aggressività costante, del tempo per tutti i 90 minuti, mi è piaciuto tantissimo, giocatori che ci tengono, si vede che voglio dire appartengono proprio alla Gelbison e danno l'anima. Speriamo di continuare così e quindi ci aspettiamo veramente quel salto, nell'altra serie, la categoria. Intanto per la Frecagnola con quale impegno ci lasciamo? Noi già da domani iniziamo a lavorare, abbiamo già ieri sera iniziato a lavorare, questo nuovo consiglio, nuovo direttivo e ci siamo già detti alcune cose che devono darci la possibilità di migliorare dai servizi fino ai gruppi musicali e quindi cercare di organizzarci anche nel momento, come dice, quella pausa pomeridiana che non c'è musica, allora vorremmo creare dei momenti di attrazione anche per i ragazzi, faremo un po' di teatri, vediamo un attimino marionette e quant'altro, un po' di musica, però vorremmo un po' così allargare il paese a queste piccole riunioni di teatro e di musica, un po' per il paese, distribuito un po' per il borgo antico, quindi ci sarà questa novità. Vedremo di portarla avanti, speriamo, speriamo bene sabato e domenica. Quindi arricchire ulteriormente il gran contenitore della frecagnola. Soprattutto sabato e domenica, perché ora la gente viene anche a pranzo. Viverla intensamente. Arriva lì e non ha musica, non ha nulla, sembra un po' spoglia, sembra un po' spoglia la piazza, quindi spoglia di evento, dico, e quindi vorremmo riempirla con questi spettacoli, vediamo. Buon lavoro. Grazie Carmela, grazie a te, grazie a Giorgio, grazie a SET TV. Ci fermiamo qui con queste belle parole del dottore Mimmo Pizzolante, una lunga edizione oggi del nostro telegiornale, doveroso dedicare uno speciale alla frecagnola 2024. Grazie ancora e buon lavoro dottore. Grazie, buon lavoro a voi, buonasera a tutti.